Sì, innanzitutto appunto come diceva giustamente il perché di questo libro. La nostra organizzazione è una onlus che lavora su progetti di riabilitazione sociale per persone diversamente abili. Sappiamo bene lavorando sul campo che questi percorsi di riabilitazione hanno efficacia sia con un intervento professionale adeguato ma anche all'interno di una comunità accogliente, più accogliente possibile e partecipativa che capisce e per questo in affiancamento al nostro lavoro spesso facciamo anche azioni di comunicazione sociale, di divulgazione, di crescita culturale anche rispetto alla nostra comunità proprio al fine di renderla consapevole rispetto a certe problematiche per cui poi ci troviamo a lavorarci meglio dentro, detto in maniera molto semplice. Da qui il perché di collaborazioni come quelle con Leonardo Baldini da anni e con artisti famosi ma anche non per comunicare un po' dei messaggi di ugualianza, di solidarietà, di accoglienza. Nello specifico cosa presentiamo oggi, il lavoro che vedremo? Oggi è un lavoro fatto diciamo da Leonardo Baldini che è il fotografo che ha realizzato dall'idea al progetto, ovviamente poi sulla scenografia, sulla storia e sul tipo di messaggio collaborando con noi. Questa è la storia di un ragazzo, è una giornata quotidiana di un ragazzo disabile che in realtà è uno di noi che vive una giornata nella quotidianità convinti come siamo che rispetto a emozioni, a desideri, nessuno di noi è disabile per cui abbiamo questo abile sognatore che vive la realtà di tutti i giorni e si immagina, si immagina situazioni in cui lui è importante, è famoso, è realizzato perché di fronte a desiderare una vita migliore siamo tutti uguali. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare con queste iniziative. Questo libro è una storia fotografica, illustrata, con scatti molto ironici dove la disabilità viene vista e vissuta con molta allegria e positività. Ognuno di noi è una risorsa per la nostra comunità, non è un problema, quindi tendiamo a comunicare questo.